Amici di InterfanTV, bentornati da Michele Borrelli alle video news del 9 agosto, bentornati intanto anche agli amici di Cuore Nerazzurro per quanto riguarda Facebook, tra l'altro proprio su Cuore Nerazzurro ieri abbiamo pubblicato una grafica, la grafica semaforica, chi ci segue a Obiettivo Inter sa di cosa parlo, la leggenda, i verdi, i gialli e i rossi, c'è chi è destinato a rimanere, chi dipende dalle trattative, chi invece è in partenza quindi analizziamo ruolo per ruolo quella che è tutta la situazione del mercato nel giorno il 9 agosto in cui c'è stata finalmente l'ufficialità di Dalbert, il terzino sinistro ex ormai Nizza e che aspira, detto oggi, ad andare a giocare anche nella Sele Sao, quindi nel Brasile Inter trampolino di lancio, Inter che deve consacrarlo, un giocatore che ha fatto molto bene quest'anno ed è il quinto acquisto dell'Inter, al netto poi di tanti giovani che sono arrivati, avevo pronosticato a inizio mercato nove acquisti, ci siamo ancora perché deve arrivare un'alternativa a Candreva e può essere sempre più Emre Mor che oggi non ha fatto nemmeno, non era presente nelle varie foto del Borussia Dortmund e quindi il sesto può essere lui, il settimo e l'ottavo possono essere due difensori perché sono in uscita Ranocchi e Murillo che teniamo rossi, Murillo sempre più vicino al Valencia e poi il nono me lo tengo così come possibile sorpresa. Oggi per esempio in Turchia si scriveva di Talisca il trequartista del Besiktas in prestito dal Benfica, al Besiktas è proprio dove dovrebbe andare a questo punto Medel che come abbiamo detto più volte è solo una questione di scelta della squadra perché non rientra nel progetto e quindi io credo che Gio Mario oggi sia ancora il favorito per quanto riguarda il ruolo di trequartista, però lasciamo sempre una possibilità a una sorpresa in questa ultima parte di mercato e per esempio anche col Paris Saint-Germain si possono intavolare diversi discorsi, in quel caso lo stesso Orier che oggi ha rituitato il benvenuto dell'Inter ad Albert potrebbe entrare in orbita Inter, qualcuno dice come terzino destro, certo lui faceva il terzino destro ma può essere considerato anche un quarto centrale all'occorrenza e quindi in quel caso si potrebbe prendere un solo centrale, tanti centrali seguiti dietro la coppia Skriniar-Miranda, ne devono arrivare dicevo due se parte anche Murillo, sono tanti i centrali in giro per l'Europa seguiti dall'Inter sia nella Ligan sia nella Liga ma anche in Argentina, si è parlato anche dello stesso centrale argentino oggi Diaz ma anche dell'altro argentino del Betis Pezzella nei giorni scorsi poi ci sono state smentiti o comunque anche Diop del Tolosa, lo stesso Kimpembe del Paris Saint-Germain, sono tanti, sono tanti i difensori centrali che possono fare al caso dell'Inter, non ultimo Christensen che ha giocato nel Borussia Mönchengladbach ma di proprietà del Chelsea o Iniko Martínez per cui il Barcellona non sembra pagare la clausola quindi potrebbe restare alla Real Sociedad, vediamo perché lo stesso Garai con il Valencia potrebbe rientrare magari per abbassare il prezzo di Condogbia perché per quanto riguarda la cifra che sembra voler offrire il Valencia non ci siamo proprio e quindi Condogbia al momento resta all'Inter anche se diventa difficile per lui essere titolare inamovibile però dicevo andiamo in ordine dalla difesa perché i portieri ormai Andanovic è verde perché non ci sono offerte delle big quindi resta comunque volentieri all'Inter, Padelli ha sostituito Carrizo e il terzo è Berni che ha prolungato per un anno, difensori centrali abbiamo detto di Skriniar che è sempre più una certezza dopo questo precampionato a fianco a Miranda che non so perché alcuni tifosi dell'Inter sottovalutano ma è stata una stagione particolare, lui è sicuramente un top nel ruolo e vice Miranda e vice Skriniar arriveranno due giocatori al posto di Muriglio e di Ranocchia e l'Inter completerà il pacchetto quindi con quattro centrali non con Van Neusden che può essere il quinto. A destra D'Ambrosio Ansal di vice, a sinistra Dalbert ormai ufficializzato, Nagatomo vice che diventa giallo, da rosso è diventato giallo perché va sempre più verso la permanenza salvo poi anche in quel caso sorprese però quando Nagatomo diceva se non sono nel progetto e me lo dicono io vado via Spalletti ha fatto capire che invece rientra nel progetto perché servono anche i giocatori che possono stare in panchina e all'occorrenza essere chiamati in causa, non tutti accettano questo ruolo. A centrocampo sono 6 per 3 maglie con dobbi abbiamo detto oggi non è titolare inamovibile, lo sono sicuramente Borca Valero, Gio Mario favorito nella rosa di oggi e lui il trequartista titolare, Vesino e Gagliardini oggi si giocano una maglia, ha fatto tanto discutere abbiamo messo Vesino nella grafica titolare, molto interessante, Spalletti l'ha voluto fortemente, interessante perché a 26 anni comunque ancora in piena crescita e non l'abbiamo ancora visto in un contesto di giocatori più forti o comunque in una big, lui può ancora crescere, certo Gagliardini dovrà lottare per guadagnarsi il posto da titolare, forse oggi partono alla pari con Condogbia sotto, un po' sotto, ha capito il giocatore francese che per guadagnarsi di nuovo la nazionale deve trovare una squadra per avere più continuità e vediamo se il Valencia o proprio il Paris Saint Germain gli darà fiducia, dicevo molto più difficile la trattativa invece che magari in Francia o il Paris Saint Germain dopo questo mercato pirotecnico Neymar, adesso si punta anche Mbappé, magari andranno anche su Gio Mario però non è questione solo di soldi, l'Inter ha fatto capire che i giocatori che non rientrano nel progetto possono partire, quelli che invece sono centrali non partono, è stato così per Riccardi l'anno scorso, per Brozovic alla fine del mercato scorso, tutti e due li voleva anche la Juventus, quest'anno Perisic che intanto nella grafica è diventato giallo perché qualcuno dice perché non verde, e no non è ancora verde perché deve ancora comunque adeguare il contratto, prolungarlo, il Manchester può sempre inserire Martial nella trattativa che ieri non ha giocato nella Supercoppa europea contro il Real Madrid e quindi se si convincono magari si riapre lo spiraglio Perisic-Manchester United, però l'Inter ha dimostrato di non cedere, non facilmente, di non cedere proprio se ritiene i giocatori fondamentali per il progetto tecnico, così come Spalletti sta ritenendo in questo momento Gio Mario Perisic, è lo stesso Candreva criticato da tanti interisti, però oggi è il giocatore che ti può permettere il cambio modulo. Borca Valero dicevo titolare, con Candreva Perisic le alternative sono oggi Eder, Emre Mor che scavalcherebbe Capigol che deve andare in prestito per trovare più spazi, anche se lui vuole rimanere, noi lo teniamo giallo, prima era addirittura rosso, quindi paradossalmente ha scalato un po' di gerarchie, partito Bia Biani verso lo Spartapraga di Stramaccioni, ma oggi Capigol starebbe sotto Emre Mor che è vero che può fare anche il trequartista, così come Brozovic può fare l'esterno o a volte anche lo stesso Gio Mario, quindi sono giocatori interscambiabili, ma per Capigol lo spazio sarebbe anche quest'anno molto molto ridotto, non si fanno nemmeno le coppe, quindi non gli conviene molto rimanere all'Inter per guadagnarsi l'Inter stessa, a volte i percorsi sono un po' lunghi ma potrebbe riguadagnarsela proprio giocando con continuità e facendo bene da qualche altra parte. Per quanto riguarda il ruolo di punta, Icardi ormai sta tornando, anche oggi ha parlato in termini entusiastici della nuova stagione, ha ripercorso le tappe di questo infortunio, ha provato a forzare con l'Argentina, poi un mese di completo stop, il lavoro a parte, adesso finalmente anche con ancora un po' di dolore il lavoro con il gruppo e anche i primi minuti, l'assist nell'ultima amichevole. L'ultima amichevole che è passata col Villareale, l'ultimissima invece le prove generali per il campionato in cui speriamo di vedere oltre a qualche minuto in più di Icardi anche Dalbert stesso in campo, Vesino un po' di più anche lui per vedere di migliorare l'amalgama con Gio Mario e con Borca Valero e quindi gli ultimi, diciamo così, esperimenti di Spalletti e poi c'è sempre Jovetic che è sul mercato perché difficilmente potrà accontentarsi di fare l'alternativa. Lo stesso Pinamonti rischia a questo punto di andare in prestito, anche se all'inizio i programmi non erano questi perché oggi ha superato anche le visite mediche brillantemente dopo le difficoltà del mese scorso Schick e quindi io lo ritengo più un sogno perché fin quando non firma, dopo tutto quello che è successo con la Juve, Schick davvero sarebbe un gran colpo, anche se volesse rimanere un anno alla Samp perché ha 21 anni e quindi sarebbe fondamentale prenderlo, certo se arriva subito ancora meglio, però sarebbe un gran colpo prenderlo e non farlo andare alla Juve, Juve che nonostante tutti i discorsi con Edved continua a provarci, questo è un giocatore di sicuro valore e di sicuro futuro, quindi speriamo davvero che l'Inter possa concludere la trattativa, Sabatini lo voleva già quando lui era alla Roma, speriamo che coroni questo inseguimento adesso all'Inter. Queste sono un po' tutte le gerarchie nei vari ruoli, ricordando che la lista dovrà essere di 21 al netto dei giocatori under 21, magari sembra un gioco di parole, uno ricorda il 25, erano 25, sono 25 perché in Europa soprattutto si calcolano 17 più 4 di un vivaio italiano e 4 di un vivaio del vivaio della squadra stessa, quindi dell'Inter in questo caso. In Italia è un po' diverso perché ci possono essere quanti under 21 si vuole e quindi alla fine quelli cresciuti nel vivaio sono quasi sempre under 21, quindi per esempio Pinamonti, per esempio Santon, se resta, resterebbe a fare il quinto terzino, quindi anche a lui non conviene, anche se ancora non si allena con il gruppo dall'ultimo infortunio in ritiro. Quindi diciamo che se calcoliamo i tre portieri che ho detto, gli otto difensori, lì bisognerà capire, under 21 vengono considerati 96, quindi se Schick è un 96, se arriva è un under 21, Emre Morre è un under 21, Gabigolle è un under 21, i difensori centrali può arrivare almeno uno che sia under 21, poi se per esempio arrivano Garai e Orier non ci sono under 21 e quindi dobbiamo considerarne 8 di difensori. Facciamo il caso massimo che non ci sia un under 21 nei due centrali al posto di Murillo e Ranocchia, quindi 3 più 8 sono 11, i 6 centrocampisti, mettiamo che con dobbia non ha l'offerta giusta, arriviamo a 17, davanti Eder, Perisic, Icardi o Schick o Pinamonti non sono considerati under 21, Candreva, né Gabigolle né Emre Morre sono under 21, arriviamo giusto a 21 giocatori, quindi Jovetic sarebbe di più. Se poi parte o con dobbia, oppure se arriva un difensore classe 96, c'è un posto in più davanti, ma ripeto, se c'è Icardi è già Pinamonti parte perché oltre a Eder c'è anche Schick, se ci fosse la possibilità di prenderlo e io lo spero tanto. Per Iovetic gli spazi sono veramente limitati, anche come trequartista i centrocampisti abbiamo visto, lo può fare Brozic, ma soprattutto c'è Mario, e nel caso in cui davvero l'Inter riesca a prendere un giocatore top player in quel ruolo, oggi non vedo tanti spiragli, però mai dire mai, Jo Mario potrebbe andare al PSG in quel caso e quindi avere un top player nel ruolo di trequartista, comunque come la giriamo, giriamo e per Iovetic non c'è lo spazio. Io dicevo all'inizio del mercato 9 acquisti come indovinello, però dicevo minimo 7, massimo 10 e alla fine ci siamo arrivati con Padelli, con Skriniar e Borcavalero, 23 milioni più 5,5 più 1,5 di bonus Borcavalero siamo a 30, Vesino 24 la clausola in due rate annuali e siamo a 54, oggi abbiamo visto 20 milioni più bonus d'Albert, arriviamo a 74, se mettiamo i 6 milioni di Colidio che arriverà a gennaio, il giovanissimo attaccante argentino siamo sugli 80 milioni, il valore di Embremor si aggira intorno ai 15, quindi arriveremo intorno ai 95, il valore di Schick sarebbe di 30, quindi arriveremo sui 125 e poi i due difensori centrali, lì bisognerà vedere che tipo di giocatore arriva, se magari qualcuno arriva in prestito, però se vogliamo calcolare il valore dei cartellini, quest'anno si supera anche la cifra dell'anno scorso, compreso Gagliardini, l'Inter aveva speso 135 milioni di cartellini tra l'estate e gennaio, quindi ai tanti che mi scrivono, Suning ha promesso, poi non spende, non si può fare la squadra senza spendere, bisogna anche capire che le esigenze erano in diversi ruoli e comunque l'Inter non si tira indietro per prendere anche un giocatore top nel ruolo di trequartista, avevamo detto anche da esterno, ma da esterno dobbiamo contare anche Perisic, ripeto, per esempio Keita poteva fare, l'Inter ha battagliato con la Juventus, che tra l'altro ancora non lo prende per Keita, però se c'è Perisic, se c'è Eder, che ad oggi noi teniamo gialli perché ancora, l'ho detto, ci sono delle situazioni che si possono evolvere in quella zona di campo, per Keita oggi non c'è proprio lo spazio, per Schick è diverso perché si può giocare con Schick anche più dietro ai cardi, può essere un'alternativa, comunque un giocatore assolutamente da non farsi sfuggire, si può pensare che è anche per Keita lo stesso discorso, però ecco, sarebbero troppi in rosa per quanto riguarda l'ala destra, ripeto, un discorso anche tattico, che Andreva fa tutto un altro mestiere rispetto a un giocatore offensivo come può essere Keita e quindi non sono assolutamente in alternativa. Poi è mremore da scoprire perché potrebbe fare davvero anche il trequartista, se cresce come ha le possibilità, anche se oggi magari ha giocato ancora poco anche nella Bundesliga, però è un grandissimo talento, abbiamo visto l'Inter in passato per esempio con Icutinio che oggi va per 100 milioni al Barcellona, con lo stesso Kovacic ci ha visto tante volte giusto, poi mancando una programmazione a lungo termine, un progetto condiviso con l'allenatore, magari l'hai dovuto inserire in alcuni scambi e si è finito per perderli. Adesso non sarà più così, ci sono delle premesse tutte diverse, quindi si può ripartire in modo programmatico e progettuale e comunque i soldi si stanno spendendo per quanto riguarda alcune critiche che ritengo infondate, invece per quello che riguarda il valore dei giocatori, ricordo che Riccardo Rodriguez l'Inter ce l'aveva in pugno, però si è scelto di andare su Dalbert e alla fine il corteggiamento è riuscito, Dalbert arriva e speriamo che l'Inter davvero gli possa regalare la nazionale brasiliana così come lui ha detto oggi, se l'è posto come obiettivo. Noi ci rivediamo sabato sera dopo la partita con il live su Facebook Cuore Nero Azzurro e con la video news delle pagelle proprio qui su Interfan TV, iscrivetevi e così saremo sempre più numerosi a commentare. Tutte le notizie di mercato ma non solo, poi inizia il campionato, ormai ci siamo, Fiorentina, Roma e poi il talk show che ritorna, Obiettivo Inter con la terza giornata, quindi da settembre grazie a tutti quelli che commentano, che scrivono, io dico sempre l'importante che con un linguaggio civile, senza farci il sangue amaro, senza doverci arrabbiare, siamo tutti interisti e possiamo dialogare tranquillamente sulla nostra passione, sull'Inter, ciao a tutti da Michele Borrelli e sempre forza forza Inter, benvenuto a Dalbert!